Qual è l'esperienza di FreshForecast nella gestione dei dati? FreshForecast durante i suoi anni di esperienza ha valutato un percorso a tre step nella gestione dei dati. Il primo punto è quello di raccogliere un'ottima base di dati e riuscirle a fare parlare i dati tra loro. Il secondo punto è quello di riuscire a farlo diventare comprensibile per la mente umana, quindi riuscire a visualizzarli e grazie all'integrazione che esiste tra i vari dati, quindi dati di meteo, dati di vendita, dati di produzione, si riescono a fare delle scelte imprenditoriali. Il terzo punto è quello di avere i dati comprensibili ed in anticipo, quindi il grande valore aggiunto è appunto quello di poter prendere scelte imprenditoriali sui dati sapendo quello che succederà in futuro. Un classico esempio è quello della previsione di produzione o la previsione, ad esempio, della domanda. Quindi sapere quello che il proprio cliente richiederà fra cinque, sei settimane, sapere quello che si avrà in campo, dà la possibilità di riuscire ad ottimizzare la filiera. Grazie.